Con l'arrivo di Natale Capodanno è ormai iniziata la corsa ai regali e agli acquisti. Ma si preferisce comprare su internet oppure in negozio? Ma guardi, acquisto pochissimo da una parte e dall'altra, cerco di comprare il minimo indispensabile. Negozio? Perché la roba la posso vedere. Poi, per carità, non disdegno comunque questi siti dove tu puoi comprare, perché poi comunque è roba buona. Però io preferisco guardarla. Negozi? Perché? Perché sono di Torino e mi piacciono i negozi. Io voglio provare la roba, quindi negozio, senza dubbio. Internet? Perché? Perché è più comodo. Cosa le piace acquistare in negozio? Indomente. Su internet non acquista nulla? No, mai acquistato niente. Io preferisco acquistare online in genere. Perché? Ma perché trovo maggiore convenienza e maggiore varietà di prodotti. Cosa acquista su internet oppure in negozio? Ah, e-books, quelle robe lì, i libri, i-books, queste cose. Sì, perché le e-books sono su internet. Cosa preferisci invece acquistare in negozio? Ma vestiti, forse, così, cibo. Cosa acquista in negozio di solito? Tutto. Dai regali a tutto quello che c'è da comprare. Su internet che cosa acquista? Pochissimo. Non sono abituata su internet. Non è il mio genere. Cosa compra comunque? Comprono i miei figli su internet. Io no. Cosa acquista in negozio? Non molto perché con la pensione non è che posso, però magari genere alimentare, magari se mi serve per fare un regalino, queste cose qua. Niente di più. Su internet invece cosa acquista? Ma su internet io vado molto poco, più che altro è mia figlia. Lei usa Amazon, queste cose qua, ma io non ho molta domestichezza. Cosa acquista genericamente online? Ma all'inizio acquistavo soltanto apparecchiature elettroniche, adesso acquisto anche abbigliamento, diciamo che un po' a tutto tondo. Il negozio tradizionale acquista? Adesso raramente, devo dire. Cosa acquista? In genere capi di abbigliamento.